L'app Aristonet ti permette di accendere, spegnere e controllare la temperatura del riscaldamento e dell'acqua sanitaria da smartphone o PC, sempre e ovunque tu sia. Attraverso quattro funzioni preimpostate puoi avere il massimo comfort in ogni condizione. L'app Aristonet ti permette di programmare ogni giorno due diverse temperature per tutti i giorni della settimana, perché il comfort è davvero intelligente se può seguire i tuoi ritmi di vita. E quando i tuoi piani cambiano improvvisamente, con Aristonet puoi modificare la programmazione del tuo impianto, ovunque tu sia. Con Aristonet è possibile impostare e controllare diverse temperature in differenti zone della tua casa. E con la stessa app, è possibile gestire anche le temperature di diverse abitazioni. Il comfort perfetto per te, ovunque tu sia, è sempre a portata di mano.